Benvenuti a tutti da Anteprima Cinema, vi lascio con il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema. Minnie, Abilene e Skeeter prendono la giornata insieme per scrivere il libro. Ci sto anch'io. E poi dice, oh Minnie, ti faccio un regalo, ti do le ferie pagate. Io non avevo mai avuto ferie pagate in vita mia. Metti la mamma su una sedia prima che si rompa un'anca. Quella io l'ammazzo, Abilene. No! It can be in the best way and not the best way. Voi due amici avete tirata dentro, ma io vado fino in fondo. I think they're heroes. Sei impazzita per caso? No ma... Impazzirà lei? Manca poco l'uscita di The Help, tratto dall'omonimo romanzo di Catherine Stockett, caso letterario al primo posto della classifica del New York Times. Diretto da Tate Taylor, il film ha ricevuto diverse nomination agli Oscar ed ha incassato quasi 170 milioni di dollari negli Stati Uniti. Nel cast vedremo Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain e Sissy Spacek. La trama parla dei rapporti tra le donne ricche dell'America del Sud degli anni 60 e le loro governanti afroamericane. A marzo del 2011 Bradley Cooper aveva affermato che non ci sarebbe stato alcun sequel per A-Team, almeno per lui. Sembra invece che il regista Joe Carnahan abbia intenzioni diverse e voglia anzi produrne uno. Il regista, attualmente impegnato nella realizzazione di The Grey, un altro progetto con Liam Neeson, ha però alcuni dubbi, soprattutto perché il primo film, costato 110 milioni di dollari, ne incassò solo 177. Staremo a vedere. E per oggi è tutto, a presto d'Anteprima Cinema.